Io penso che senza l'acqua non c'è la vita, quindi l'acqua è indispensabile. A me piace molto l'acqua perché per il mare, per la montagna, l'acqua c'è dappertutto, l'acqua è vita. Quando si parla di acqua, gli occhi dei ragazzi si illuminano e lo sa bene Amag Reti Idriche, la società del gruppo Amag che si occupa del ciclo integrato dell'acqua, ha celebrato infatti il loro blu con le scuole elementari e medie di Rivalta Bormida e Acquiterme, una grande festa che ha permesso di riflettere sul loro blu, sull'importanza e sulle modalità di consumo nel mondo. La cosa che mi piace di più dell'acqua è soprattutto quando torno da un'attività che ho fatto, in cui sono molto stancato, bevo dell'acqua e mi sento meglio perché l'acqua è fresca, mi piace pura la freschezza. A chiudere in bellezza e in modo significativo l'appuntamento, l'esibizione della ballerina nella sfera, idealmente immersa in una goccia d'acqua, Federica sulle note della colonna sonora del film d'animazione Frozen, ha regalato a tutti un suggestivo momento artistico. Questa esperienza di venire qua è stata molto interessante, credo che tutti noi abbiamo scoperto cose nuove e che non ci saremmo mai aspettati rispetto all'acqua. Abbiamo capito che in questi paesi in cui manca l'acqua scoppiano delle vere e proprie guerre per averla e noi che ce l'abbiamo siamo fortunati e dobbiamo sfruttarla bene. Non bisogna splecarla perché ci sono tante persone senza l'acqua e che soffrono. La festa dell'acqua continua da marzo perché abbiamo 61 comuni e dobbiamo appunto toccare il più possibile le nuove generazioni, cercando di trasmettere queste emozioni, queste conferenze, ma impostare un dialogo con i nostri ragazzi perché si rendono conto che noi abbiamo un bene universale, il nostro oro blu da tutelare per il futuro. Grazie. Grazie.